Un saluto da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo. Andiamo alle previsioni per sabato 17 maggio, ma prima vi ricordo che lunedì 19 partirà il nostro Tornado Tour, in cui 4 cacciatori andranno a seguire i Tornado negli Stati Uniti, tra cui il nostro Paolo Corazzon. Quindi rimanete sintonizzati e non perdetevi gli aggiornamenti. Aggiornamenti meteo per sabato, invece, sarà una giornata, come vedete dalla nostra grafica, con tempo tutto sommato discreto al nord, salvo qualche rovescio a ridosso dei rilevi nel pomeriggio. Parecchia instabilità, invece, al centro-sud, con acquazzoni e temporali sparsi. Ma prima di entrare nel dettaglio previsionale, andiamo insieme a dare un'occhiata alle temperature, partendo dalle minime, in leggero aumento al nord, stabili invece al centro-sud. Andiamo poi ad osservare le massime, che invece saranno stabili al nord, mentre il lieve calo al centro-sud. Entriamo ora proprio nel dettaglio previsionale, partendo dal nord, dove avremo un inizio di giornata tutto sommato discreta, con schiarite prevalenti, pur con maggiore nuvolosità al nord-est. Infatti al pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio in locale sconfinamento alla pianura Lombardo-Veneta entro sera, ma comunque vi rassicuro perché migliorerà entro la notte. Inizio di giornata nuvoloso al centro, ma senza particolari fenomeni. Dal pomeriggio però, invece, come vedete, vi segnalo, lungo la dorsale apenninica e sulle interne temporali ed acquazzoni, mentre andrà meglio sulle coste e migliora poi in serata con ampie schiarite da ovest. Per quanto riguarda il sud, ci sarà da tenere l'ombrello a portata di mano, perché vi segnalo parecchia instabilità, soprattutto su Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Invece ci sarà bello per tutto il giorno sulle isole maggiori. In ogni caso, per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, andate sul nostro sito www.3dmeteo.com